La piantina si ammalò La bambina l'accudiva ma la piantina non rifioriva Così lei si rattristò ed in lacrime scoppiò Su non piangere piccina, fece piano una vocina Col tuo amore di tue cure, anche se non guarirò Già non sento più il dolore e serena io vivrò Non ti sopporto più, il dolore non va sopportato, va eliminato Per la prima volta in Italia e precisamente all'ospedale di Rocca d'Aspida In provincia di Salerno viene realizzato un progetto Cardiopain L'isola che c'è, che ha lo scopo di ottenere la riduzione di prescrizioni Improprie di farmaci antinfiammatori del tipo FANS e COCSIB Nei pazienti cardiopatici Responsabile del progetto è il dottore Raffaele Rotunno Direttore dell'unità operativa di cardiologia all'ospedale di Rocca d'Aspide Il progetto, partito nel novembre del 2013 È stato presentato nel corso di un convegno Promosso dall'agenzia congressi di Apo Il progetto Cardiopain è stato organizzato dall'agenzia di Apo di Salerno L'agenzia congressi, grazie al contributo non condizionante di Mundi Pharma Ha avuto il suo inizio qui all'ospedale di Rocca d'Aspide E si svilupperà in una serie di eventi su tutto il territorio nazionale Più che un convegno è stato proprio un momento formativo Rivolto ai medici di medicina generale Che sono direttamente coinvolti nel progetto Tutti i medici di medicina generale, al di là delle specifiche competenze Devono saper trattare la sofferenza riconoscendone l'intensità E devono essere consapevoli degli effetti sia terapeutici sia nocivi dei fans Oltre che dell'opportunità di ricorrere, in caso di dolore acuto Agli analgesici oppioidi La cui prescrizione è stata semplificata grazie all'articolo 10 della legge 38 del 2010 L'iniziativa si colloca nell'ambito di una strategia che viene ad implementare una nota dell'AIFA L'Agenzia Italiana del Farmaco La nota 66 pubblicata nell'agosto del 2012 Che limitava e persino vietava l'utilizzo di questi farmaci in presenza di malattie cardiovascolari Il progetto prevede una prima fase, ha previsto una prima fase già realizzata Di misurazione nel territorio di riferimento a questo ospedale Un territorio confinato alla Valle del Calore Della prescrizione impropria dei farmaci antinfiammatori Lo stato di fatto di questa prescrizione La seconda fase prevede la compilazione di una lettera di dimissione ospedaliera un po' particolare In questa lettera di dimissione si affianca alla singola diagnosi di patologia cardiovascolare Una sorta di semaforo rosso Che segnala, che ricorda le limitazioni Che quella specifica diagnosi di malattia cardiovascolare Pone all'utilizzo dei farmaci antinfiammatori Tutto sulla lettera di dimissione Che viene letta dal medico generico, dal medico di base E viene letta anche dal paziente In modo che entrambi sono allertati sull'uso o non uso di questi farmaci Serve a discutere con i medici di base di questa iniziativa A illustrare loro le motivazioni di questa iniziativa Perché accanto a quelli che sono gli effetti deleteri nocivi Dei farmaci antinfiammatori Nel paziente cardiopatico È giusto che i medici di base Abbiano anche la possibilità di conoscere le possibili alternative Nel trattamento del dolore Quando c'è il dolore comunque sia va trattato Anche le regioni Sicilia e Piemonte Adotteranno in modo particolare il modello di dimissione del paziente Dal prossimo primo gennaio Sì, il modello di dimissione più che il progetto Il modello di dimissione Così come l'abbiamo compilato È diventato ghiotto Perché la stessa regione Basilicata Anche in Sicilia hanno deciso di adottarlo Forse la forza del modello è nella sua semplicità Perché non è necessario con questo modello Andarsi a rileggere ogni volta tutta la nota AIFA Ma compare una diagnosi Accanto a quella diagnosi compare la limitazione All'uso di questo o quel farmaco L'ospicio è che venga adottato un po' in tutte le regioni italiane Noi pensiamo di realizzare questo progetto Che dovrebbe durare sei mesi Perché è la seconda fase Quella di questa dimissione particolare E poi c'è la terza fase Che è quella della verifica dei risultati La possibilità di lavorare in un contesto circoscritto Come è questo La Valle del Calore Il territorio di riferimento a questa popolazione A questo ospedale Le popolazioni di questo territorio fanno riferimento a questo ospedale Consente una verifica dei protocolli terapeutici piuttosto affidabile Si tratta di una popolazione, ripeto, di un territorio circoscritto E anche una efficace valutazione dei risultati Quali devono essere i risultati Se prima dello studio vi era una percentuale di prescrizioni impropria Dopo lo studio ci auguriamo che questa percentuale si riduca almeno del 50% Poi si può immaginare di riproporre questo lavoro, questo progetto in altri territori A confermare la validità del progetto è stata la stessa agenzia del farmaco L'AIFA che ha lodato l'iniziativa del dottore Rotunno All'incontro con i medici di medicina generale Si è parlato anche del dolore del paziente neoplastico Che è abbastanza complesso Anche se applicato adeguatamente secondo le linee guida internazionali Diviene un'attività quotidiana Che serve ad alleviare la sofferenza dei malati Che non possono più guarire Sicuramente il chiarimento che si sta facendo sull'uso spesso non appropriato di alcuni farmaci Serve a chiarire alla categoria degli operatori sanitari Che il problema del dolore quando diventa cronico Quando entra all'interno di una malattia che può durare mesi addirittura anni Non può essere trattato come si tratta un dolore che può durare 5-6 giorni Quindi c'è un uso improprio di questi farmaci? Sì, c'è stato e continua ad esserci Questo legato soprattutto ad una serie di riserve Che soprattutto la classe medica aveva nei confronti dell'uso degli oppioi Grazie a Dio oggi una legge ha consentito una prescrizione estremamente libera di questi farmaci Un'altra legge, la legge 38 del 2010, ha garantito il diritto delle persone Ad avere cure palliative e terapia del dolore adeguate nel luogo dove lo ritiene più necessario Ci sono strutture adeguate ad ospitare pazienti di questo tipo in Regione Campania In particolare in provincia di Salerno? Sì, certamente sì Ci sono state, ci sono Ce ne saranno, mi auguro, anche molte altre Proprio sotto la spinta della legge 38 del 2010 Sicuramente però queste strutture dovranno essere gestite da personale multispecialistico Adeguatamente preparato e qualificato per erogare la terapia del dolore e le cure palliative Non si può improvvisare In Italia attualmente sono 15 milioni i malati affetti da dolore cronico Che persiste da almeno 6 mesi Quello che forse è meno conosciuto è che gran parte di questi malati Non sono malati affetti da tumore Anzi, i malati affetti da dolore cronico da cancro sono solo il 15% Il rimanente 85% sono pazienti affetti da patologie croniche di tipo muscolo scheletrico Di tipo degenerativo, spesso legate all'età Stiamo parlando di artrosi, artrite, low back pain, lombosciatalgie Artrite reumatoide, spondilite anchinosante Quindi abbiamo 15 milioni di persone che in questo momento soffrono di un dolore cronico Cioè di un dolore che è talmente severo e talmente continuo Da risultare assolutamente invalidante o limitante Anche per la normale vita quotidiana Dottore, il dato è in aumento? Un dato lievemente in aumento Nel senso che in questo dato si riferisce a un'indagine epidemiologica ormai abbastanza datata Che era un'indagine europea del 2006 Che rispetto a un'analoga indagine svolta 3-4 anni prima Effettivamente da dei numeri lievemente in aumento Ma quello che è importante non è che il dato è in aumento È che il dato adesso viene ad essere molto più conosciuto di prima Anche in questo caso c'è un uso improprio di alcuni farmaci? Assolutamente sì L'ultima riunione, l'ultimo congresso organizzato dal ministero a giugno Impact, Impact è un congresso che ogni anno il ministero organizza sul dolore a Firenze Dice che c'è una spesa di 580 milioni di euro circa in Italia per i farmaci antinfiammatori Rispetto a 80 milioni di euro per i farmaci oppiace Questa è chiaramente una chiara evidenza di un dolore trattato in maniera inadeguata L'importanza dell'incontro viene esaltata ancora di più dalla cornice che ha ospitato l'evento Un piccolo ospedale di provincia che ha dimostrato come professionalità, conoscenza ed amore per il proprio lavoro Possono far superare ogni tipo di ostacolo creando buone prassi Che si traducono in accresciuta qualità della vita e buona salute Musica 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 Grazie a tutti.